E rimaniamo sempre in tema, nel prossimo servizio ascoltiamo alcuni commenti dei vari partiti presenti. Una posizione che ci trova soddisfatti perché non abbiamo competitor né a destra né a sinistra, siamo in mezzo ai Freieitrichen a vita, e quindi abbiamo una plancia perché prima delle schede elettorali i cittadini vedranno le plancie su tutto l'Alto Adige e saremo non confondibili rispetto agli altri attori di centro-destra dell'alleanza di governo con cui vogliamo continuare a governare insieme alle sfope. Devo dire che per noi è solo un fattore tecnico, alla gente questo interessa poco, per noi però per gli addetti ai lavori è importante per cominciare a produrre dei facsimile della scheda, per consentirci di spiegare l'importanza di andare a votare e anche il come si va a votare. Questo sicuramente adesso parte, questa sfida all'astensionismo, oltre che a convincere i cittadini e gli elettori del nostro programma elettorale. Ma ovviamente avremmo preferito essere un pochino davanti, ma gli ultimi saranno i primi, vedremo di lavorare ancora di più per vincere con i voti e le preferenze della gente.